Hi guys! Oggi parliamo di 5 modi per dire buy like a Brit, come un nativo inglese. Iniziamo dal primo. See you in a bit, vuol dire ci vediamo dopo, a più tardi. Have a good one, è un augurio di trascorrere il buon tempo, ad esempio in una pausa a pranzo o nel tempo libero. Are you off? Stai andando? Vuol dire stai uscendo? Hai finito? Catch you later, vuol dire ci vediamo dopo, ci becchiamo dopo in giro. I'm going to shoot off, vuol dire sto andando, sto uscendo, si può utilizzare anche soltanto I'm going to shoot. Bene, usa queste alternative a buy e se non sei ancora iscritto al canale, iscriviti, clicca sulla campanella e resta sempre aggiornato su nuovi contenuti in uscita ogni settimana. See you soon, bye Grace!